C'è un po' di nervosismo prepartita durante il riscaldamento. Ce l'hai con me? 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 È stato strano perché eravamo tutti in sintonia e poi sai, il mio compagno Brandon è sempre pronto a entrare in campo. Mi stavamo chiacchierando del più e del meno, scherzando tra di noi e ho visto un tizio avvicinarsi a lui e spingerlo. Alla fine dei conti farei qualsiasi cosa per proteggere la mia squadra. No, io ho tirato un pugno perché sarei stato multato o espulso, così gli ho dato una testata. Ce l'hai con me? Ce l'hai con me? Ce l'hai con me? Ce l'hai con me? Con me? Eh ragazzo? Eh ragazzo? Sono corsi verso di noi!